Nella sera della GlaxoSmithKline di Via Fleming, dopo lo sciopero dello scorso 3 maggio, oggi un'altra giornata di protesta per i lavoratori di una tra le più note società farmaceutiche internazionali che da un anno non fa mistero di voler avviare il processo di cessione di una parte dell'azienda. A farne le spese ben 350 lavoratori, tra i 250 dipendenti della divisione Cefalosporine, un antibiotico ad ampio spettro prodotto da Glaxo Manufacturing, ed il comparto addetto alla composizione dei bugiardini. Manifestiamo per la situazione che si è venuta a creare in questa azienda, in cui una parte importante che è quella della produzione verrà venduta a delle aziende di cui non sappiamo chi siano, che piano industriale abbiano, non sappiamo il futuro del lavoratore. Un'altra parte ha già dichiarato un taglio presunto, perché le informazioni non le abbiamo avute direttamente dall'azienda, ma da altre fonti, del 20% di costi, che il 90% dei casi significa tagli sul personale, c'è un trasferimento di questa sede, di questa area che è storica per Verona nel centro, con altri disagi per i lavoratori, senza che questa azienda abbia ben che minima nota il fatto di parlare con i lavoratori e parlare con i loro delegati. Presente a Verona dal 1932, Glaxon è una realtà importante per la città, sia dal punto di vista della ricerca, del nome, ma soprattutto dell'occupazione, così come ci hanno ribadito le rappresentanze sindacali, che nel pomeriggio hanno avuto un incontro in regione. Nel frattempo, è notizia di questi giorni, la politica di Verona si è impegnata a fare quanto possibile per far arrivare la situazione di Glaxo a Roma, all'attenzione del nuovo governo. La nostra intenzione è di andare avanti con le manifestazioni fino a quando l'azienda non si siederà ad un tavolo con noi per parlare chiaramente e di maniera trasparente, visto che questa azienda si vanta tanto della sua trasparenza, non è assolutamente trasparente e non riusciamo a farla sedere ad un tavolo e a farci raccontare quello che sta succedendo. Noi vogliamo sapere chi compera, ma soprattutto in che modo compera, perché vogliamo le garanzie per i lavoratori, perché vogliamo il mantenimento dei posti di lavoro e anche chi verrà trasferito nell'altra sede, in che modo verrà trasferito e se questo produrrà dei tagli sulle persone. E poi c'è un'altra area nella quale io lavoro, dove non sappiamo neanche ancora dove andremo ad abitare fra un anno, quindi non sappiamo se rimarremo qua in affitto, se ci trasferiranno da un'altra parte, non sappiamo nulla.